Grazie mille Giacomo, grazie a tutti e buon pomeriggio. Prima di iniziare l'intervento di oggi volevo condividere intanto lo schermo. Dovresti vederlo tu? Benissimo. Appunto come anticipava Giacomo oggi vi introdurrò ad un progetto che si chiama Starts che ha come obiettivo appunto quello di ridare centralità all'arte, alla creatività e proprio al pensiero artistico, la ricerca artistica in processi di sviluppo che prevedono collaborazioni tra artisti e scienziati. e tecnologi per lo sviluppo e la creazione di tecnologie che siano più rispondenti a quelli che sono i bisogni della nostra società, inteso anche come bisogni sociali oltre che bisogni magari commerciali legati appunto ai motivi principali che guidano la creazione di tecnologia. Il potenziale diciamo che il ruolo degli artisti è sempre stato importante negli anni in passato nella produzione di diverse innovazioni, innovazioni tecnologiche, innovazioni scientifiche. Con questo progetto la Commissione europea a partire dal 2015 ha voluto ritrovare dei nuovi modelli, insomma ridare centralità anche all'arte e anche al design sviluppando tutta una serie di iniziative a livello europeo e anche a livello territoriale. Allora prima però di raccontarvi il progetto e alcuni diciamo alcuni elementi chiave che fanno sì che queste collaborazioni tra scienziati, ingegneri e artisti possano funzionare. E prima di parlarvi anche di alcuni metodi che sono stati implementati dal progetto e che stiamo come Nesta Italia portando avanti su Torino, volevo presentarvi un po' quello che è il concetto, quello che è il concetto start-up, quello che è l'impatto degli artisti in questi processi che portano poi alla produzione di tecnologie o di scienza che sia più democratica, più umana o più sociale. E mi piace molto questa quote, questa citazione di Rebecca Solnit che è una scrittrice statunitense che ribadisce che gli artisti appunto hanno da sempre giocato un ruolo centrale, sono stati coloro che hanno immaginato e prodotto alcune delle tecnologie fotografiche, sono stati tutti i miei artisti che sono statianni, sono stati gli artisti premi ad immaginare un mondo in cui gli umani potessero volare e sono gli artisti che tutt'oggi decostruiscono, distrugono quelle che sono magari alcuni limiti o alcuni framework intellettuali, proprio perché ribaltano a volte anche il modo in cui vediamo le cose, ribaltano il modo in cui disegniamo alcuni processi, oppure apportano un approccio critico al modo in cui facciamo innovazione, il modo in cui immaginiamo la tecnologia, che è qualcosa che serve molto oggi, nel momento in cui abbiamo visto anche alcuni effetti negativi di alcune tecnologie. Penso ai social network, penso a magari alcuni effetti negativi sulla depressione o altre patologie. Volevo condividere con voi un video, andatemi soltanto un attimo. Questo video presenta un artista, Paolo Cirio, che forse voi conoscete, ha anche diversi edizioni di B&A Tecnologia quest'anno e lo scorso. È un artista italiano che lavora molto anche all'estero e volevo mostrarvi questo video anche per capire che cosa... Grazie a tutti! I collected 1,000 public photos of police officers taken during protests in France. I then processed them with facial recognition software to profile 4,000 faces of officers that now can be identified by name. I don't have anything against the police. I just want to demonstrate that facial recognition is above them. Police officers are just people, but they can use violent tools. So the police need to be accountable if they use those tools against citizens. and they can't hide. I want to show that this asymmetry of power is not fair. I want to show you the video. I want to show you the video. What other people do of this image of a lot of police officers at this time break. The police officer are recently single police officers che andasse a bannare un po' quelle che sono alcune pratiche che vengono adottate in Francia ma anche in altri paesi europei utilizzando appunto la tecnologia di riconoscimento facciale senza tutela della privacy. Ha raccolto 50.000 firme, poi questa attività è stata anche ripresa da un network European Digital Rights che è un network europeo che difende i diritti e le libertà online proprio per aumentare la consapevolezza ma anche cambiare un po' quello che è il pensiero politico, l'azione politica e la regolamentazione in questo senso. Qualcuno di voi vuole commentare che cosa vi ha scaturito questo video? Vi è sembrato un po' troppo provocatorio? Volevo appunto innanzitutto chiedere a voi se avevate una riflessione, un commento da condividere. Va bene, allora se mi posso permettere, a me non è apparso affatto provocatorio, anzi penso che questo artista abbia perfettamente ragione a chiedere questa simmetria di conoscenza diciamo fra i cittadini e le forze dell'ordine. E naturalmente insomma la tecnologia potrebbe avere un ruolo importante in questo. Grazie. Io se posso essere provocatorio ho pensato che sarebbe stato bello avere questa cosa nel G8 di Genova del 2001. Se ci fosse stata la tecnologia, io l'unica preoccupazione che rilevo è nei diritti poi degli agenti, che non è che solo per il fatto che sono agenti di polizia debbono avere la loro faccia spiattellata sui muri della città, ecco. C'è poi il rischio che si crei la simmetria contraria, troppo da una parte per come diciamo compensazione. Esatto, sì questo è un buon punto. Nell'intento dell'artista c'era proprio quello di evidenziare questo aspetto, cioè che effettivamente poi se ribaltiamo le carte ci troviamo in una situazione opposta dove può essere molto pericoloso appunto incollare i visi, i profili degli agenti di polizia in giro per le strade. Quindi assolutamente. Ecco, diciamo questo è stato un messaggio molto forte, però fa capire molto bene quello che può essere un intervento di questo tipo, che è appunto un po' artistico e che va, scusate un po', è artistico ovviamente perché è come utilizzare l'arte per creare mobilitazione, per creare consapevolezza attraverso la fotografia e quindi parto da qui per collegarmi poi anche un po' a quelli che sono le motivazioni di questo progetto STARZ. STARZ appunto, come vi dicevo, è un progetto che è stato promosso dalla Commissione Europea a partire dal 2015 proprio per rafforzare, promuovere le collaborazioni tra artisti, scienziati e ingegneri per lo sviluppo di tecnologie che fossero più creative, più inclusive, più sostenibili. Ci sono diversi partner in Europa convolti in questa iniziativa Bosar, Ars Electronica, Alesson Catra e molti altri. Per chi poi è interessato e curioso c'è proprio un sito starts.eu dove ci sono tutti i partner ma soprattutto tutte le attività che sono state sviluppate negli anni e incluso tutta una serie di iniziative che troverete, che sono in corso oggi. Tra i filoni principali c'è quello delle residenze, premi, progetti Lighthouse, le academy e gli apre regionali. Le residenze si focalizzano molto sul tema della collaborazione tra imprese, centri di ricerca e artisti dando la possibilità all'artista di sviluppare un progetto artistico e di scambiare conoscenza appunto con chi possiede una conoscenza più tecnica e scientifica lavorando di solito a una sfida, a una sfida comune. I premi sono un'attività invece che riconosce un po' il valore e la potenzialità dell'arte di spostare le barriere, spostare in avanti le barriere dell'innovazione con appunto anche qui dei contributi anche un po' radicali magari e quindi questo tipo di premio è un qualche cosa che viene promosso ogni anno lo Stars Prize ad esempio almeno uno o più vengono promossi annualmente. I progetti Lighthouse sono invece dei progetti più legati alla ricerca e anche qui al voler spostare un po' le barriere della ricerca scientifica in avanti dando la possibilità agli artisti di collaborare concretamente con ricercatori e scienziati rendendo anche alcuni aspetti della ricerca più tangibili per un audience più allargata e quindi renderli comprensibili, dare la possibilità alle persone che non sono scienziati per l'appunto di far domande e di interrogarsi su alcune questioni. L'Academy invece ha l'obiettivo di andare a rafforzare diciamo lo skill set già dei giovani offrendo appunto un'accademia dove si insegnano competenze artistiche ma anche competenze più tecniche e scientifiche appunto lavorando sui temi della multidisciplinarietà e gli hub regionali invece sono l'hub ad esempio che stiamo costruendo a Torino insieme a Fondazione CRT, insieme a Compagnia di San Paolo, insieme a OGR ovvero degli hub a livello regionale che promuovono queste iniziative STARS creano un vero e proprio ecosistema di attori che sono interessati a queste tematiche e interessati a, curiosi anche, interessati a includere l'arte e il design nei propri processi di sviluppo. Queste sono alcune iniziative che sono state, cioè alcune caratteristiche del STARS, della sua rete, quindi alcuni dei progetti appunto e di numeri relativi a questi progetti che sono stati sviluppati fino ad oggi e mi piacerebbe focalizzarmi adesso su quelle che sono un po' le ragioni per effettivamente avviare queste collaborazioni e le modalità per avviarle perché poi è facile dire sono delle collaborazioni che portano valore ma poi è ben più difficile invece realizzarle nella pratica. Ci sono diverse motivazioni per avviare una collaborazione con un artista come centro di ricerca o come azienda. L'importante è che questi obiettivi siano condivisi, siano condivisi con l'artista e con tutte le persone che potrebbero essere anche dei curatori, ad esempio, che seguono il processo di sviluppo di un'opera o di un progetto artistico con tutte le persone che sono coinvolte. Il Network STARS ha sviluppato un toolkit proprio sulla collaborazione che è disponibile appunto a questo link e in questo toolkit sono state analizzate un po' di dinamiche che si sono sviluppate nelle collaborazioni STARS e dei modelli anche e delle metodologie di collaborazione che funzionano. E quello che è emerso è che prima di tutto è importante avere chiari gli obiettivi quindi perché stiamo collaborando. Si può collaborare con un artista per interrogare la tecnologia e cioè, ok, questa tecnologia è un po' l'esempio che abbiamo visto adesso di Paolo Ciro, la tecnologia del riconoscimento facciale che tipo di intenzioni ha, che tipo di accesso hanno le persone a questa tecnologia? È un accesso inclusivo? È un accesso democratico? Non lo è? Quali sono alcuni effetti di questa tecnologia? Quindi questo potrebbe essere per esempio un primo punto. Una seconda motivazione è legata all'umanizzazione della tecnologia cioè immaginiamo, ripensiamo a una tecnologia che sia più equa, più etica e facciamola insieme. Questa tecnologia magari esiste già, rivisitiamola in una nuova ottica. Il punto tre invece è proprio un tipo di intervento che va a rendere, come si diceva prima, alcune scoperte scientifiche o alcune informazioni scientifiche più accessibili ma anche più usufruibili da parte di un pubblico più ampio creando a volte anche delle vere e proprie esperienze che coinvolgano anche il senso, appunto, human sense, il senso umano per andare a lavorare su questo anche qui creando consapevolezza ma anche dando la possibilità a un pubblico esterno di conoscere ciò che magari rimane dentro i laboratori e farsi delle domande a riguardo. Il punto quattro invece è più legato a l'arte come mezzo per immaginare degli scenari futuri diversi distopici, speculativi, ipotetici dove effettivamente con l'obiettivo di risolvere alcune delle sfide sociali che ad oggi sono ancora un po' irrisolte. Diciamo che questi sono stati quattro punti che hanno riassunto un po' il perché attivare una collaborazione con un artista o con un designer. Qui vi ho portato una serie di esempi di progetti che sono stati realizzati in ciascuno dei quattro punti quindi questioning technology è davvero rispetto a ok, questa tecnologia appunto è fair, è etica cosa possiamo fare per renderla così e questo artista con Project Alias ha praticamente creato con una stampa 3D questo fungo che si appoggia su un dispositivo come Google Home o come Siri e protegge l'utente dall'essere ascoltato in continuazione grazie a questo strumento in realtà si può utilizzare un'app che blocca il dispositivo di intelligenza artificiale e qui la domanda alla base era come possiamo davvero rendere queste tecnologie smart ma davvero smart cioè in una modalità che davvero garantisca la privacy di chi la sta utilizzando e quindi questo artista ha lavorato insieme ad alcune aziende per sviluppare questo progetto questo esempio secondo che vi porto invece sul Humanizing Technology è stato un progetto che è durato due o tre anni quindi un progetto piuttosto lungo Pollution Explorer che è stato svolto principalmente a Londra ma anche a Berlino dove sostanzialmente si andava a interrogare su una sfida vedete che prima si parlava di technology driven project e invece qua si parla di challenge driven collaborative project quindi prima guidava la technology qui guida la sfida e la sfida è quella di capire come le comunità possono rispondere in modo attivo al problema della qualità dell'aria perché ci sono diversi sensori in giro per le città i dati della qualità dell'aria oramai sono disponibili e si conoscono ma quello che è difficile è utilizzare questi dati per mobilitare le persone per agire poi a livello di comunità per in qualche modo contrastare l'inquinamento e quindi questo è quello che è stato sviluppato si è lavorato molto con i bambini si è lavorato molto con le istituzioni a livello locale per andare a creare delle tecnologie wearable quindi degli strumenti che si attaccavano sia al telefono che alle braccia, alle mani e che avevano attraverso il machine learning riuscivano da un lato a registrare i dati sull'aria a livello molto locale rispetto a chi lo indossa alla posizione di chi lo indossa ma dall'altro davano la possibilità alle persone di esprimere un giudizio rispetto alla qualità dell'aria percepita e questo ha fatto sì che si consapevolizzasse molto di più e si interiorizzasse molto di più questo concetto portando a un cambiamento di comportamento vero e proprio cioè i cittadini si impegnavano a svolgere delle attività quotidiane che volte a inquinare di meno il loro vicinato il punto 3 invece è legato appunto al taking science quindi portare la scienza fuori dal laboratorio quindi sono progetti guidati dalla scienza e qui gli artisti hanno lavorato con l'università di Stuttgart e con i fisici dell'università per cercare di rendere visibili i movimenti dei singoli atomi che fluttuano nello spazio quindi come vedete qui c'è questa palla all'interno di questa palla di vetro vengono catturati degli atomi e attraverso una tecnologia appunto di imaging system sostanzialmente uno sistema visivo è possibile visualizzare per le persone gli ioni intrappolati in modo sicuro e questi artisti lavorano molto su queste tematiche proprio con l'idea di portare alcuni fenomeni scientifici fuori dai laboratori di aumentare quelle che sono le capacità sensoriali umane proprio con la volontà di aprire la scienza a un'audience più di larga scala infine l'esempio l'ultimo esempio quello appunto che è un po' guidato da una missione che è quella di risolvere una sfida sociale più alta più grande e qui vi ho portato l'esempio di Constructive Connectivity che è un progetto che si fonda su una ricerca scientifica in cui viene diciamo scoperto che l'attività multisensoriale cioè che chi ha sofferto di infarto per la riabilitazione e che poi deve effettuare effettivamente un'attività di riabilitazione è molto più stimolato e ha una riabilitazione molto più veloce e si svolge delle attività multisensoriali anziché attività che prevedono un soltanto sviluppo di un senso e la produzione testile ha questa caratteristica e quindi il progetto ha creato questo prototipo di questa camicia che viene indossata da chi ha avuto un infarto che ha all'interno dei sensori e la persona che indossa la camicia e che pian piano utilizza le sue mani per toccare degli oggetti fare delle cose e questi sensori trasmettono su un iPad tutta una serie di figure, suoni sensazioni e questo rende molto anche qui molto più consapevole il paziente stimola il paziente a fare di più e a migliorare la sua performance post infarto Quali sono alcuni consigli per una collaborazione di successo e alcuni ostacoli comuni quello che succede spesso quando si lavora con aziende o si lavora con centri di ricerca è che venga un po' strumentalizzato l'artista cioè questo è l'obiettivo io ti ho chiesto di farmi questo e quindi ecco gli artisti non sono fornitori quindi qui è molto importante che ci sia un rapporto tra pari e che appunto gli obiettivi siano condivisi e che si valorizzi la diversa expertise e il diverso approccio di artisti rispetto a ricercatori e ingegneri che le aspettative non siano realistiche oppure che si definisca un valore appunto molto circoscritto o che se non si investa abbastanza tempo queste collaborazioni hanno bisogno che chi lavora al progetto ci creda e chi lavora al progetto ci dedichi del tempo e è anche importante che ci sia appunto che ci sia un follow up perché questo progetto possa continuare nel tempo ma che ci sia anche un atteggiamento molto aperto molto curioso perché la ricerca artistica funziona con dinamiche diverse rispetto a quella della ricerca scientifica o della ricerca appunto tecnologica e inoltre quello che abbiamo imparato negli anni per evitare questi errori è che è importante che ci sia appunto una condivisione continua di risorse e di competenze con l'artista perché chiaramente ogni soggetto nella collaborazione ha un bagaglio culturale diverso e di competenze diverso e quello che può aiutare molto è stabilire redigere un contratto di partnership dove si decide prima dell'avvio della collaborazione una serie di cose utili a avere una visione comune ad essere allineati l'obiettivo e scopo della collaborazione esplicitare gli obiettivi definire un processo di lavoro e delle aspettative ad esempio adesso che inizieremo a lavorare con alcuni soggetti come il Politecnico di Torino come alcune aziende come Celi abbiamo richiesto che ci fossero dei check-in continui che ci fossero dei momenti in cui avviene un vero e proprio momento di confronto rispetto all'avanzamento lavori e rispetto al lavoro con l'artista le risorse e i contributi richiesti devono essere molto chiari stabiliti fin dall'inizio se c'è la possibilità per l'artista di avere una postazione all'interno dell'azienda di lavorare per un tot di giorni al mese e così via sono tutte cose che devono essere stabilite prima e poi è anche importante avere un accordo sui temi di proprietà intellettuale perché anche questo chiaramente quando l'opera viene prototipata o viene realizzata potrebbero insomma sorgere dei problemi se questo non è stato discusso prima e vi racconto brevemente così poi lascio lo spazio alle domande il progetto che stiamo svolgendo a Torino di cui forse avete sentito parlare che è appunto la costituzione di questo hub regionale Starts Regional Center a Torino che si chiama Starts to Work Sustainability queste sono le attività che abbiamo svolto che stiamo svolgendo la City of the Future è una call quindi un concorso aperto ad artisti e creativi che abbiamo lanciato a ottobre che si è chiuso a novembre abbiamo appena nominato tre artisti vincitori di questa diciamo di questo di questa call che hanno vinto un premio da 17.000 euro ciascuno per fare cosa? Abbiamo stretto una serie di collaborazioni con soggetti spazi culturali a Torino e con aziende e centri di ricerca tra cui anche il Centronex ti devo approfondire una delle sfide che è stata proposta e abbiamo chiesto agli artisti alle aziende e ai centri di ricerca di lanciare una sfida cioè pensare a una sfida sul quale volevano lavorare insieme agli artisti mettendo a disposizione una tecnologia o una domanda dei dati da un punto di vista una domanda scientifica o dei dati scientifici c'è stata un'ottima risposta abbiamo ricevuto insomma più di 70 candidature da tutta Europa e adesso a marzo da marzo giugno si svilupperanno queste residenze in alcuni spazi culturali torinesi un altro progetto è invece lo Starts Connect Talks che sono momenti come workshop o talk online dove parliamo appunto di come avviare delle collaborazioni o mettiamo in relazioni attori diversi abbiamo appena lanciato lo Starts Prize for Social Good che è appunto un premio per artisti che hanno già un prototipo esistente hanno già collaborato con aziende o con centri di ricerca che utilizzeranno questo premio per arrivare alla fase 2 di prototipazione o comunque per sviluppare il proprio progetto artistico e che stanno e che stanno investigando appunto stanno lavorando su alcuni ambiti diciamo più legati all'impatto sociale di alcune tecnologie e di alcune scoperte scientifiche ecco che si chiama For Social Good e ha comunque un un risvolto anche urbano in un certo senso perché si riferisce a tecnologia o scienza che hanno a che fare anche con lo sviluppo delle città del futuro sono due premi da di 15.000 euro ciascuno ed è un premio e sono due premi che sono promossi con fondazione CRT e UGR e infine stiamo realizzando stiamo lavorando la realizzazione di un evento finale il 29-30 giugno a cui siete tutti invitati sarà un festival principalmente online ma ci saranno alcune attività che verranno realizzate invece in presenza che verranno poi trasmesse online come anche delle performances e inviteremo in questo contesto oltre che speaker e relatori europei internazionali anche gli artisti che hanno partecipato a tutte queste attività questi sono gli enti che hanno partecipato con noi questi sono gli enti culturali partner di rete questo l'ho già detto questi sono i vincitori dell'open call come vedete sono un'artista italiana e ci sono due artiste studia above and below si trova in inghilterra mentre claire tolan in germania e verranno qui a torino appunto per lavorare questi sono degli esempi di challenges per esempio topics aveva proposto come challenge living connections e cioè metteva a disposizione alcuni open data sets per immaginare per lavorare sul tema del digital divide e quindi immaginare un nuovo modello di rappresentazione dei dati del traffico internet e comprendere meglio questo tema specialmente in un momento come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo di covid e di bisogno di stare connessi per non perdere le relazioni e questa invece è la sfida che è stata proposta dal Nexa Center che era sulle criptovalute e produzione tra pari e qui invece appunto era diciamo che rispetto ai punti di prima si avvicina stiamo parlando del punto 4 cioè stiamo proprio immaginando o addirittura appunto 2 cioè stiamo immaginando come una tecnologia che esiste già quello della criptovaluta quello della blockchain possa essere applicata in una modalità diversa rispetto a quella esclusivamente finanziaria ma possa essere immaginata per sistemi di produzione locale tra pari per creare delle delle economie locali che si basano su modelli diversi come appunto quelli socio-economici di cooperazione o di produzione tra pari queste sono tutte cose che ho già detto quindi io interromperei qui e lascerei spazio a qualsiasi domanda o approfondimento bene grazie mille Simona dell'ottima presentazione qua prima delle domande mi permetto di prendere io la parola perché c'è sempre da scaldare un po' il ferro prima di batterlo e quindi le pongo io una questione che a me ha sempre interessato molto e che lei ha trattato così di sbieco in questa presentazione mi chiedevo se potesse dirmi di più il discorso del punto 3 taking science out of the lab cioè il discorso di utilizzare per la verità qualsiasi forma artistica per divulgare la scienza non solo la scienza qualsiasi conoscenza secondo me si può divulgare attraverso un ambito artistico io dico sempre qua nex sono un grande appassionato di videogiochi mondi virtuali tecnologie di questo tipo ma c'è un potenziale infinito di far imparare a degli studenti a dei giovani ma anche a degli adulti qualsiasi cosa fondamentalmente anche le più noiosi in teoria no? come non so vedere gli ioni dentro un tubo non penso che sia una cosa particolarmente entusiasmante sulla carta però se è resa bene è bellissima e chi la vede impara dieci volte quello che avrebbe imparato su un libro di testo leggendolo a fronte di questo però io vedo anche che è la concorrenza guerritissima nel senso che basta farsi un giro su youtube oggi per vedersi video di ogni tipo dagli animati a quelli invece più divulgativo scientifici modello national geographic super qualche cose di questo tipo per cui diventa molto difficile riuscire da parte di un artista a produrre un contenuto di valore dal punto di vista così della divulgazione scientifica mi chiedevo se lei avesse degli esempi se potesse dirmi qualcosa in più su questo che è un argomento che a me sta molto a cuore grazie mille sì grazie alla domanda ma noi abbiamo avuto l'occasione di parlare con Erika Villa di The Science Gallery qualche mese fa in uno dei nostri appuntamenti e The Science Gallery sta proprio facendo questo cioè sta cercando di avvicinare studenti ragazzi a materie scientifiche o appunto incuriosirli su alcune tematiche più tecnico-scientifiche attraverso l'arte e stanno immaginano delle residenze per artisti hanno dato dei premi e mi diceva ci diceva Erika che queste attività hanno avuto tantissimo successo cioè che da quando hanno iniziato a svolgere questa attività è aumentato in modo considerevole ora non ricordo la percentuale il numero di studenti che si sono iscritti a materie scientifiche quindi infatti questo è proprio sono dati che parlano è stato proprio bello anche sentire questa esperienza e vedere e sul sito ci sono alcuni esempi di alcune produzioni realizzate appunto dagli artisti rispetto a quello che dicevi c'è tanto su internet sì sono molto d'accordo è vero penso che la differenza stia proprio nella capacità degli artisti di promuovere questa attività con un'idea molto partecipativa con un approccio molto partecipativo di base quindi in realtà immaginando di coinvolgere l'audience magari già con dei workshop immaginando di coinvolgere la popolazione su alcune riflessioni anche con delle piattaforme digitali quindi questo diciamo che forse è un livello aggiuntivo che con il progetto STARTS si cerca di promuovere e si cerca di stimolare grazie mille prendiamo pure le domande di chiunque le voglia fare alzate la mano su qua su Gizzi Antonio sì non avevo ancora alzato la mano ma io ho trovato interessante l'esempio di quel progetto artistico sull'inquinamento perché mi sembra che abbia delle potenzialità per far vedere anche ai politici in tempo reale quello che pensano i loro potenziali elettori adesso non i bambini naturalmente ma se tutti quanti potessimo tramite i nostri braccialetti elettronici dire like o dislike e farlo vedere a chi ci rappresenta e loro vedrebbero in tempo reale che la gente non è contenta del loro lavoro ecco da questo punto di vista volevo chiedere avete altri progetti che funzionano in questo modo cioè che fanno che utilizzano i dati prodotti dai cittadini per ottenere degli effetti sui governanti c'è un progetto che non ho citato che è stato svolto a Barcellona in una zona di Barcellona forse lo pronuncio male che si chiama Ciutat Veia questo è stato un progetto dove sono stati raccolti dati di diverso tipo sono stati raccolti dati dai cittadini dati da i dati che avevano già a disposizione le pubbliche amministrazioni e dati invece che sono stati raccolti con tecnologie quindi IoT o di Artificial Intelligence sono stati tutti messi su una mappa dati di diverso tipo legati alla qualità della vita quindi dati relativi al traffico dati relativi alla qualità dell'aria dati relativi a quanti negozi commerciali e attività commerciali aziende ci sono in un'area piuttosto che un'altra sempre all'interno di quella e questo è stato fatto per da un lato informare i cittadini rispetto appunto alle zone in quell'area diciamo più pulite in un certo senso comunque più environmental friendly dall'altro è stato fatto proprio per sensibilizzare i politici di quella città rispetto ai bisogni di quella specifica area e rispetto agli interventi che si potevano fare cioè si è andato a simulare si è andato proprio a fare una simulazione rispetto a se io vieto di costruire di aprire questi negozi in questa area se io vieto di aprire certe aziende in questa area cosa succede all'area cosa succede all'area cosa succede al benessere dei cittadini e questo l'hanno fatto simulando diverse casistiche ed è stato molto interessante loro infatti avevano vinto un premio ora non ricordo quale gli starts però avevano vinto un premio proprio perché era stato un progetto che richiedeva competenze di tipo diverso molto interessante volevo anche solo se non ci sono altre domande mi pare di non vederne chiedere una cosa che mi sono perso all'inizio della presentazione starts andrà avanti negli anni oppure finito il finanziamento ricevuto terminerà questa è un'ottima domanda ci sono una serie da un punto di vista partiamo da due diversi livelli da un punto di vista di hub regionali starts ci sono dei finanziamenti annuali per cui dei soggetti promotori magari nell'anno 1 nell'anno 2 è molto probabile che non ricevino i finanziamenti perché l'ottica di starts è proprio quella di creare tanti hub a livello europeo quindi incentivare partner diversi nel promuovere queste attività detto questo l'iniziativa starts è in qualche modo inclusa in modo tacito ma anche non così tacito in una serie di di per il futuro viene inclusa nel concetto di European Digital Innovation Hub per cui ci sono se non sbaglio 100 milioni o più di finanziamenti che verranno messi a disposizione da parte della Commissione Europea per incentivare questi hub di questi centri di competenza che dovrebbero aiutare le pubbliche amministrazioni e le SMIS e quindi scusate pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese a digitalizzarsi quindi a utilizzare tecnologie emergenti accompagnare la trasformazione digitale e il concetto di arte e le attività promosse da starts in questo hanno ruolo è stato detto c'era una conferenza qualche settimana fa dove proprio si è incentivata la partecipazione di iniziative starts a questi centri e poi risiede anche in quella che è la visione più ampia di Ursula von der Leyen nell'idea di avere di promuovere una nuova Bauhaus in Europa che sia in cui si raggiungano alcuni obiettivi del Green Deal come appunto l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050 grazie anche alla collaborazione tra diverse discipline tra cui soprattutto artisti scienziati ingegneri e dove la creatività la cultura e l'estetica avranno un ruolo fondamentale nell'immaginare soluzioni alle sfide del futuro quindi in realtà ci sono i presupposti e c'è la visione di far continuare queste attività nei programmi europei nei prossimi anni grazie c'è Marco che vuole intervenire e gli do io la parola così anticipo Giacomo grande ciao Sì io avevo più innanzitutto grazie per la presentazione è molto bello e stimolante diciamo io avevo più in realtà una curiosità diciamo immagino che far comunicare artisti ingegneri scienziati non sia proprio molto semplice magari perché hanno formamenti diversi formamenti diversi modi di lavorare diversi e appunto magari a volte ci sono quasi delle delle difficoltà di comunicazione quasi come se parlassero due due lingue diverse quindi mi chiedevo se ma più appunto come una curiosità se aveste già avuto riscontri su questo su questo tipo di problematiche come sta andando appunto questa collaborazione tra gli artisti e gli ingegneri sì con questo grazie le nostre attività inizieranno adesso a marzo quindi da un punto di vista diciamo pratico rispetto a quello che faremo noi sul territorio sapremo rispondere tra qualche mese quello però che abbiamo fatto per prevenire questa situazione per evitare questo tipo di ostacoli è stato anche un po' cercare di mettere in pratica quelle che sono alcune best practice che sono state realizzate da altri partner europei su questo progetto e tra queste c'è certamente il fatto di avere un di appunto fare un agreement quindi di scrivere un contratto prima dove si stabiliscono una serie di cose che la collaborazione deve avere cioè cosa nel senso di il fatto che ci debba essere un referente comunque del team di ricerca che dialoga almeno un referente che dialoga con l'artista il fatto che ci devono essere degli incontri mensili eccetera eccetera però c'è un altro aspetto c'è un'altra figura che non ho citato prima che è quella del curatore il curatore ha un ruolo molto importante perché se da un lato l'intermediario quindi in questo caso Nessa Italia sicuramente è coinvolta e cerca di agevolare e di fare un po' da traduttore in questi due linguaggi il curatore è la persona che lavora direttamente con l'artista e che aiuta l'artista a portare avanti il suo progetto e che capisce e che ha già lavorato in passato con partner di entità diverse e che quindi svolge un po' questo ruolo anche di traduzione perché gli artisti tipicamente sono molto bravi a pensare in modo creativo a portare avanti la loro idea e a esplorarla ma magari sono un po' meno bravi nella parte più organizzativa o nella parte più anche solo di obiettivo e rispetto delle tempi di altre cose e il curatore si assicura fa proprio questo cioè si assicura che questo venga rispettato e fa un po' da tramite il curatore è quindi una persona del centro di ricerca è un tecnologo è un ingegnere è uno scienziario è un soggetto che viene anche chiamato in inglese pro user cioè è un è quel soggetto che capisce molto bene di arte che ha già accompagnato artisti ma allo stesso tempo capisce anche tutta quella parte invece più tecnica organizzativa commerciale e quindi in realtà è qualcuno che in questo caso nel caso delle residenze è stato consigliato dagli spazi culturali nel quale tipo ad esempio noi avevamo Arteco Superbud e Via della Fucina 16 che sono stati partner culturali scelti dai vincitori questi partner avevano la possibilità di disegnare un curatore che ha già lavorato progetti di vario tipo in questo senso ho capito grazie mille beh se non ci sono domande ne faccio un'altra io a proposito di questo che è curiosa un po' più leggera è più difficile lavorare con i freddi calcolatori ingegneri o con gli estroversi artisti ma un po' matti dalla sua esperienza la mia risposta non vorrei essere no ma lei insomma chi dei due crea più problemi o comunque con chi dei due si rie... perché io quello che dicevo prima anche no era senza l'artista la scienza non la si porta da nessuna parte se non da chi già la capisce quindi è necessario che qualcuno faccia quel passo in più per cui ci sono come diceva lei pro e contro in entrambi i casi allora ero curioso di sapere quali dei pro e quali dei contro erano maggiori nella diciamo così nella generalità dei casi sì ma ecco appunto non vorrei poi incorrere in stereotipi o cose diciamo che nella nostra esperienza quello che abbiamo certamente capito è che gli artisti hanno un modo di pensare a volte che è molto staccato magari da un modo molto un po' più convenzionale quindi in realtà c'è bisogno di un po' più di accompagnamento in generale che poi è proprio anche il valore del loro input proprio perché ragionano in maniera diversa quindi effettivamente portano una prospettiva che è arricchente e che è di valore quindi ecco forse forse questo è un po' questa caratteristica richiede di entrare in un mindset un po' diverso e di essere gestita sono più loro diciamo che si devono un po' adattare e rispetto ad alcuni alcuni aspetti sì poi come dicevo è importante non strumentalizzare l'artista è importante lasciare all'artista la libertà di cui ha bisogno però ci sono delle cose che non possono essere completamente libere cioè se un'opera deve essere prodotta entro il 30 di giugno non possiamo produrla al 30 di settembre quindi ci devono essere comunque dei momenti in cui ci deve essere una sorta di controllo però appunto lasciando il più possibile che ci sia dato spazio alla creatività e al pensiero creativo al pensiero artistico io avrei ancora una domanda per Simona approfittando degli ultimi due minuti e della sua gentilezza Simona è sempre sul filone delle cose pratiche di cui ti ho chiesto prima siccome io faccio parte in questo momento di un progetto di ricerca europeo IRC che si occupa del volto e quindi dell'analisi del modo in cui viene rappresentato il volto nella società contemporanea e ha proprio tutta una parte legata al riconoscimento facciale come tecnologicamente diciamo si riconosce il volto oggi voi come ne esista pensate ancora di applicare per all'Unione Europea per appunto progetti tipo STARTS oppure te lo chiedo perché molti dei miei colleghi siamo in sei mi sembra due sono artisti sono artisti diciamo sulla base dei dati della ricerca che noi stiamo portando avanti producono anche opere d'arte che tengano conto di queste questioni di cui ti ho parlato quindi magari potrei dire a loro di mettersi in contatto con voi se voi pensate di applicare ancora sì ma allora su questo innanzitutto adesso c'è aperto attivo il premio appunto STARTS for social good STARTS prize for social good non so se hanno delle opere già avviate in corso dei prototipi però ecco magari possono darci un'occhiata allora sì perché di sicuro le hanno quindi e sul discorso invece di sui prossimi passi noi abbiamo l'intenzione di promuovere un hub regionale che non sia che non finisca adesso con la fine dell'attività a giugno quindi stiamo lavorando su questo perciò ecco ne approfitto anche per lanciare approfitto di questa occasione per chiedere a chiunque sia collegato sia interessato di parlarci perché ci sono delle opportunità anche a livello europeo ci sono questi digital hub europei e sarebbe molto bello poter dare una chance al Piemonte di raccogliere dei fondi e di portare avanti una serie di attività a livello locale considerato l'intensità di di talento che c'è sul territorio allora io e il mio gruppo ci faremo vivi quanto prima intanto grazie io vi devo salutare perché ho un'altra call proprio alle due però grazie mille Simone è stato molto interessante ascoltarti grazie a voi per l'invito bene grazie mille Simona si sono fatte le due quindi siamo proprio puntualissimi come piace a noi del centro Nexa vedo che si è accesa Anita Anita hai qualcosa da dire al volo volevo salutare volevo ringraziare Simona per l'incontro niente grazie mille per il suo intervento grazie mille a voi è stato un piacere e a presto a presto Simona e noi ci vediamo al prossimo 86esimo Nexalan Seminar grazie mille a tutti e buon pomeriggio buon pomeriggio arrivederci grazie arrivederci grazie mille a tutti